Allora adesso andiamo a vedere com'è fatto questo percorso qua, prima di passare alle novità. Ci prendiamo qualche minutino veloce, adesso andiamo nel nostro sito, Happiness for Future, perché questo è un corso organizzato con una parte video, quindi un videocorso, che si trova nell'area riservata, eccola qui, del nostro sito. Ci sono i corsi, clicco sui miei corsi e ci trovo, Vivi365 e tutti gli altri corsi. Adesso se clicco qui ce li ho tutti quanti, chiaramente, perché sono amministratore e ce li ho visto. Questa è la parte interna, si arriva, Vivi365, qui cosa abbiamo? In ordine decrescente, chiaramente, perché almeno quando uno arriva è già sul suo mese, qui c'è ottobre, con il tema della presenza. E cosa ci sono? Tutti gli argomenti, la spiritualità, come introduzione, che questo è il trimestre, l'ultimo trimestre, ottobre, novembre, dicembre, abbiamo fatto anche il video che ci introduce al trimestre, poi il tema della presenza, la meditazione e le altre varie pratiche. E così via, per ogni argomento, come vedete, scrollo, 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 fino a gennaio e fino alla parte introduttiva, che è sulla scienza della felicità. Vedete quante cose ci sono? 150 video, tra teoria e pratica, tutti però molto fruibili, come vanno detto anche le ragazze. All'interno di questi settori. Uno clicca qui e va, per esempio, se noi volessimo aprire, non lo so, il flow di Cizia e Mieli, che abbiamo già aperto qui, vi entra nella sezione riservata, dove qua vi riporta tutta la lista degli argomenti che uno può cliccare e selezionare. E qui ci sono la parte introduttiva, il video, come vedete, queste sono 3 minuti e 52, io che spiego, ci sono delle slide condivise all'interno dei video, eccole qua, è partita anche l'audio. Poi, quando ci sono, quando è necessario, riportiamo anche degli approfondimenti, degli schemi, dei diagrammi, così che possiate capire sempre meglio. Qui si parla di stati di flusso, quindi quali sono gli elementi che distinguono uno stato di flusso, d'accordo? Oppure, sempre nella parte introduttiva, un'altra ricerca importante, l'epigenetica di Sonia Di Gommischi, anche qui 3 minuti e 14, come vedete, anche qui ci sono, quando è necessario, degli schemettini riassuntivi, che sono stati riportati anche sotto. Ci sono dei bullet points che spiegano e che ci piace potervi dare sempre di più. Ma andiamo a vedere anche qualcosa sul sonno. Questa è la pratica già menzionata dall'Anna, della stanza numero 2. Le stanze di immaginazione sono un sistema di pensiero immaginativo che ho ideato e messo a punto negli ultimi 12 anni fa. Sono 9 le stanze, e in IV365 ne vediamo... 4-5, adesso non mi ricordo. Questi sono i disegni che rappresentano queste stanze, ci sono gli audio da sentire, visto? 9,56, abbiamo detto 10 minuti, non 10 minuti. Gli altri audio dove spieghiamo la teoria, anche questo dura 6 minuti e 0,6, non vi abbiamo detto delle menzogne, visto? Poi ci sono, ecco, quando è necessario, le frequenze, ecco qua, quindi tutti gli approfondimenti. Oppure, vediamo, ne abbiamo già aperta anche un'altra, Leslie Pario ci ha accompagnati alla consapevolezza alimentare, quindi c'è tutto un lavoro, questo come vedete invece è un po' più lungo, sull'alimentazione, sulle pratiche, sulla consapevolezza alimentare con tutti i vari quadranti, i PDF a scaricare per fare i lavori, chiaramente anche tutti gli approfondimenti necessari, visto che qui è un materiale che ci ha concesso la Leslie, una persona, e anche lei, incredibile. Sono veramente le persone eccezionali che ci stanno accompagnando in questo percorso. Nel mese di febbraio, oltre all'alimentazione, parliamo di abitudini, ci accompagna Lara, questo è un video che abbiamo dovuto fermare qui per farvi vedere che contiene anche il grafico, questo dura, abbiamo un po', circa i minuti 06, in alcune pagine, come vedete, ci sono soltanto i video, una breve introduzione, perché comunque sono già abbastanza nutrienti. Nel mese di marzo abbiamo, per esempio, aperto qui la pratica di Pilates con Silvia, che ci accompagna, come vedete, ecco qua, io la so a memoria. Partirà anche l'audio con il video dove ci accompagna, con la musichina, ma ci sono gli approfondimenti, quali sono le posizioni sbagliate, ok, o quelle giuste, quelle da tenere per non fare una cosa, per non fare l'altra, e questi sono i materiali che avete a disposizione. Andiamo avanti, emozioni, parliamo di emozioni positive, della griglia delle emozioni e della coerenza cardiaca, qui ci sono tutti i video con Lara, qui ci sono 11 minuti, ah, è sgarrato, e le griglie di lavoro che ci aiutano a capire, l'audio per la pratica, 5 minuti però di audio, quindi è recuperato sulla pratica in realtà, il materiale da scaricare, ecco, come vedete, qui ogni volta ci sono tanti materiali per voi. Qui c'è uno dei temi che ha colpito di più, è stata un'aggiunta, quella di Cinzia, con la comunicazione non violenta, qui c'è veramente tantissimo materiale, quando ce ne abbiamo mettiamo anche gli approfondimenti con i libri, per chi volesse fare ricerca, video, PDF, esercizi, come vedete, è sempre tanto, tanto materiale. Poi abbiamo aggiunto anche Valentina, perché così facciamo una, diamo una presentazione di un po' tutte le persone che ci hanno accompagnato, abbiamo appena visto anche Cinzia, per rotolo abbiamo Valentina Fermanelli, che ci ha aiutato nella motivazione con il tapping, eccola qua, anche lei super sorridente, anche qui abbiamo dei PDF e dei video da seguire per fare le nostre pratiche, scheme, griglie, per aiutarci nel nostro studio, nella nostra ricerca. Andiamo anche a fare chiarezza mentale con la stanza numero 4, la mia preferita. vale lo stesso ragionamento, come vedete, c'è sempre tanto materiale, ci sono gli audio, tutti gli iscritti hanno uno sconto su tutti i nostri percorsi, quindi tutti i viventi hanno uno sconto specifico per tutti i nostri altri percorsi, e quindi insomma questo è positivo. la mindfulness dove ci ha accompagnato Paolo Roganti, che è istruttore, ci sono i link per approfondire, ci sono anche le citazioni, video, come sempre, pratiche, e mi sembra che qui ci sia un PDF, un po' dove è finito, qua sotto, qui l'audio e i PDF per fare meglio la pratica. Poi abbiamo le prospettive, per fare un esempio, anche qui c'è sempre il materiale come da scaricare, da utilizzare, gli audio, eccetera, vediamo il Swam che è sulla presenza, che invece ha soltanto il video, e poi chiudiamo anche con la meditazione, così presentiamo anche Michele Ilari, che non ce la bisogna, ecco qua, facciamo così, così la pod la vediamo, che è un mio carissimo amico, oltre che essere una persona estremamente competente, counselor e psicologo, anche lui ci ha messo tutti i materiali per fare la pratica, pensata anche per persone che non hanno mai fatto pratica prima, d'accordo? Anche qui c'è l'audio, la sentire e via, e approfondimenti. Ok, questo è un po' quello che vi aspetta, se volete partecipare a Rite 6.5, questa è la parte della riservata, poi c'è la community, e poi nella community c'è il buddy, ci siamo noi, sono due dirette di approfondimento al mese, e due di dialogo aperto, quindi quattro dirette al mese, e l'agenda cartacea, che è un libro agenda che vi arriva, d'accordo? La community dove si incontra? In un gruppo dedicato di Facebook, che si chiama appunto Vivi 365, e al quale ha ingresso chi è iscritto, e quindi è uno spazio di scambio, condivisione, domande, risposte, approfondimenti ulteriori, e anche personalizzazione, cioè noi insegniamo la pratica, nel gruppo chiedi, e ti aiutiamo ad utilizzarla al meglio nella tua situazione specifica.